Che fai? Per caso stai andando via? No, sto solo pulendo la macchina. Puoi andare un paio d'ore da tua madre? Che da me deve venire mia moglie. Come? Tua moglie? Ma cosa ti hai preso? Sono io tua moglie. No, tu sei la mia ragazza. Deve venire mia moglie. È diverso. Ma stai scherzando? No, per favore, te lo richiedo un'altra volta. Vai un paio d'ore da tua madre? Che da me deve venire mia moglie? Va bene, va bene. Falla venire. Guarda così ci andiamo anche a prendere un caffettino insieme. Come delle amiche, così conosco tua moglie. Così conosco tua moglie.